saira ero sceso a barbie soltanto perché avevo letto in una guida non so più quale che c'era un museo con due rubens un tenier un ribera pensai andiamo a vederlo pranzerò all'albergo europa definito come eccellente e ripartirò il giorno dopo il museo era chiuso e ne aperto soltanto dietro richiesta dei visitatori lo feci aprire e potei contemplare così qualche crosta attribuita a un conservatore in vena di fantasticherie ai maggiori maestri della pittura poi rimasto solo e non avendo nient'altro da fare nel lungo corso di una cittadina sconosciuta costruita tra pianure interminabili lo percorsi tutto e mi mise a guardare qualche misero negozio erano le quattro e fui preso da uno di quegli escoraggiamenti che mettono a terra anche le persone più energiche e adesso che faccio dio mio cosa faccio avrei pagato 500 franchi l'idea di uno svago qualsiasi rimasto privo di buone idee mi decisi semplicemente a fumare un buon sigaro e cercai lo spaccio dei tabacchi lo riconobbi subito dalla lanterna rossa ed entrai la tabaccaia mi offrì diverse scatole tra cui poter scegliere dopo aver osservato i sigari che giudicai di cattiva qualità guardai per un caso la proprietaria era una donna sui 45 anni con i capelli grigi aveva un viso grassoccio irrispettabile in cui mi sembrava di trovare qualche cosa di già noto eppure non la conoscevo no no non la conoscevo sicuramente però poteva darsi che l'avessi già incontrata sì questo era possibile quel viso doveva appartenere a una conoscenza una conoscenza di vecchia data persa di vista e mutata inglassata enormemente senza alcun dubbio mormorai scusatemi signora se vi osservo in questo modo ma ho l'impressione di avervi già conosciuta lei arrossì e rispose è buffo anch'io ho la stessa impressione gettai un grido sa ira la donna alzò le mani disperata comicamente spaventata da quelle parole balbetò oh oh se vi sentissero e poi subito gridò anche lei eh ma tu sei george e si guardò attorno terrorizzata dall'idea che qualcuno avesse potuto udirla ma eravamo soli proprio soli sa ira come avevo fatto a riconoscere sa ira la povera sa ira la magra sa ira la desolata sa ira in quella grassa e placida all'orgitrice di privative governative sa ira quanti ricordi si risvegliarono improvvisamente in me bougeval la grenouillet chateau la trattoria fornese e le lunghe giornate in iole fra le rive del fiume gli altri anni di vita passati in quell'angoletto su quel fiume delizioso eravamo allora una dozzina di amici e abitavamo in casa galopua a chateau una vita spensierata sempre mezzo nudi e mezzo brilli il modo di vivere dei canottieri odierni è cambiato assai oggi portano il monocolo la nostra compagnia aveva al suo seguito una ventina di donne canottiere tra le fisse e le avventizie c'erano domeniche in cui ne avevamo soltanto quattro e in altre le avevamo tutte qualcuna lì era proprio di casa le altre si presentavano quando non avevano niente di meglio da fare cinque o sei poi vivevano alle spalle di uomini privi di donne tra queste c'era sa ira era una povera ragazzina magretta e claudicante l'infermità le conferiva un'andatura saltellante da cavalletta era timida goffa malaccorta in ogni gesto si aggrappava timorosa al più umile al più insignificante almeno ricco tra noi che se la teneva un giorno o un mese a seconda dei suoi mezzi come fosse arrivata tra di noi non lo sapeva nessuno forse l'avevamo incontrata durante una serata di baldoria al ballo dei canottieri e tracinata con noi in una di quelle razzie di femmine che facevamo spesso l'avevamo invitata a pranzo dopo averla vista da sola seduta a un tavolino in un angolo nessuno avrebbe potuto dirlo comunque faceva parte della nostra banda l'avevamo battezzata sa ira perché si lamentava sempre del destino della sua sventura delle sue disgrazie ogni domenica le dicevamo allora sa ira come va e lei rispondeva non va bene per niente però bisogna sperare che vada meglio il prossimo giorno ma in quel modo quella povera creatura sgraziata era arrivata a fare il mestiere che richiede più grazia abilità furberia e bellezza parigi del resto è piena di prostitute tanto brutte che disgusterebbero perfino un gendarme cosa faceva gli altri sei giorni della settimana più di una volta ci aveva detto che lavorava a che cosa non lo sapevamo della sua esistenza non ci importava niente a un certo momento l'avevo quasi perduta di vista a poco a poco la nostra banda si era disgregata lasciando il posto ad un'altra generazione a cui avevamo lasciato anche sa ira venne a sapere quando ogni tanto andava a pranzo da furnoise i nostri successori che non sapevano perché l'avevamo ribattezzata in quel modo avevano creduto che fosse un nome orientale e perciò la chiamavano zaira poi a loro volta avevano ceduto canotti e donnine ad altri più giovani una generazione di canottieri vive di massima tre anni sull'acqua poi abbandona la senna per una carriera politica o di medicina o di magistratura allora zaira era divenuta zara e poco dopo zara sarà modificato sarà pensavano che fosse ebrea e così gli ultimi quelli col monocolo la chiamavano semplicemente l'ebrea poi era sparita ed ecco che l'avevo ritrovata tabaccaia a bar viglie le dissi allora adesso le cose come vanno rispose un pochino meglio mi prese la curiosità di conoscere la sua vita una volta non ci avrei neanche pensato oggi invece mi sentivo stimolato a tratto molto interessato le chiesi come hai fatto a far fortuna non so è capitata quando non me l'aspettavo più e l'hai trovata a chatou o no e allora dove a parigi nell'alberghetto in cui abitavo non avevi un lavoro a parigi sì ero dalla ravalè e chi è non la conosci ma come no la modista la geniale modista di ruy de rivoli ed ecco che si mette a raccontarmi una quantità di cose della sua vita passata tanti fatti segreti della vita a parigi il retroscena di una casa di mode le avventure delle ragazze le loro idee tutta la storia di un cuore di operaietta quest'uccello da preda dei marciapiedi sempre a caccia al mattino quando va al lavoro a mezzogiorno quando fa una passeggiatina dopo aver mangiato e la sera quando torna a casa è felice di parlare del passato mi diceva se tu sapessi che canaglie siamo e quante ne combiniamo tutti i giorni ci raccontavamo le avventure che c'erano capitate certo che gli uomini noi li sappiamo ben prendere per i fondelli per quel che mi riguarda la prima mascalzonata che ho fatto è a causa di un ombrello io ne avevo uno vecchio in alpaca faceva proprio schifo mentre lo stavo chiudendo in un giorno di pioggia arriva louise la spirungona e mi fa ma come hai ancora il coraggio di uscire con questa roba non ne ho altri e adesso non ho un franco e sì ero sempre senza denaro e lei mi consiglia a prenderne uno alla madeleine mi stupisco e lei insiste noi andiamo sempre lì a prenderli ce ne sono quanti si vuole e mi spiega come devo fare una cosa semplicissima e così andai insieme ad un'altra amichetta irma alla chiesa della madeleine troviamo il sacrestano e gli spieghiamo che abbiamo dimenticato un ombrello la settimana prima allora lui chiede se ci ricordiamo come era fatto il manico io gli descrivo un manico col pomolo di agata lui ci fa passare in uno stanzino dove c'erano più di 50 ombrelli dimenticati per tutti li guardiamo tutti e il mio non si trova ma intanto ne scelgo uno bello molto bello col manico d'avorio scolpito pochi giorni dopo louise è andata a prendermelo lo ha descritto prima di vederlo e l'ombrello le è stato consegnato senza sospetti per fare queste cose ci vestivamo nel modo più elegante possibile rideva aprendo e richiudendo il coperchio a cerniera della grande scatola di tabacco e subito dopo aggiunse avevamo trovati dei trucchi e anche di molto divertenti per esempio nel laboratorio eravamo in cinque quattro ragazze semplici e una molto chic irma la bella irma era elegantissima aveva un amante funzionario e consiglio di stato questo non le impediva di tradirlo con molta avvedutezza un inverno ci disse sapete dobbiamo combinarla insieme una proprio bella e ci espose il piano sai lei aveva una figuretta da far perdere la testa a tutti gli uomini la vita e i fianchi facevano venire l'acquolina in bocca dunque sarà messa in capo di farci guadagnare 100 franchi a ciascuna in modo che potessimo comprarci gli anelli sistemò le cose in questo modo sai che a quell'epoca non ero ricca davvero e neppure le altre se le passavano meglio con i 100 franchi mensili che guadagnavamo al negozio e niente di più bisognava inventare qualche spediente è vero che ognuna aveva due o tre amanti stabili che qualcosa ci rendevano ma era sempre poco durante la passeggiata di mezzogiorno qualche volta succedeva che accalappiassimo un signore che tornava il giorno dopo lo tenevamo in ballo per 15 giorni poi lo cedevamo ma quei tipi lì rendono poco e quanto a quelli di chatoo servivano soltanto per il piacere se tu sapessi come eravamo furbe roba da creparte al ridere dunque quando irma ci propose di guadagnare 100 franchi a testa eravamo tutte eccitate lo so è molto brutto quello che ti racconto adesso ma non fa niente la vita tu la conosci e poi quando uno è rimasto a chatoo per quattro anni e allora irma ci disse ragazze al ballo dell'opera ci dobbiamo prendere quel che c'è di meglio a parigi in fatto di uomini i più eleganti i più danerosi io li conosco all'inizio non eravamo convinte perché signori così non sono certo fatti per delle modistine per irma sì ma per noi no di sicuro aveva una classe la irma sai in laboratorio dicevamo che se l'imperatore l'avesse conosciuta se la sarebbe sposata certamente insomma quella volta ci fece vestire con gli abiti migliori e ci disse voi non entrerete al ballo ma resterete ognuna in una carrozza nelle strade vicine verrà un signore e salirà in vettura appena sarà entrato via un bacione di quelli speciali poi getterete un grido forte per indicare che vi siete sbagliata e che ne aspettavate un altro il piccioncino sarà orgoglioso di aver soffiato il posto a un altro e vorrà rimanere per forza voi vi opporrete cercherete di farlo scendere e poi andrete a cena con lui allora avrà un debito con voi e vi pagherà i danni non hai ancora capito senti quel che combinò quella furbona ci fece salire tutte quattro in quattro carrozze vere carrozze da signori poi ci collocò in varie strade tutte nei dintorni dell'operà e lei andò al ballo da sola e dato che conosceva per nome tutti gli uomini più in vista di parigi in quanto la nostra padrona faceva i cappellini per le loro mogli ne scelse subito uno da far cadere in trappola loro ingalluzzi a dovere perché irma ha spirito e come quando lo vide cotto a dovere si tolse la maschera e lui cascò nella rete avrebbe voluto portarsela via subito e lei gli dette appuntamento di lì a mezz'ora in una carrozza di fronte al numero 20 della rue taibou in quella carrozza c'ero io ero seminascosta nel buio il viso oscurato da un velo a un tratto un signore si affacciò allo sportello dicendomi siete voi rispogli sottovoce sì sono io presto salite lui salì e io la ferrai tra le braccia lo baciai con un bacio da togliergli il respiro poi dissi oh come sono felice come sono felice e poi di colpo mi vise a gridare ma non siete voi che oh dio dio mio e scoppia in lacrime può immaginare se quell'uomo non rimase imbarazzato da principio fece qualche tentativo per consolarmi si scusò e affermò di essersi sbagliato anche lui io continuavo a piangere ma meno forte e facevo dei lunghi sospiri allora lui cominciò a dirmi così ne tanto tenere tanto carine era un uomo per bene ed era contento di avermi consolato in poche parole facendo un salto di palo in frasca mi propose di andare a cena con lui rifiutai feci finta di voler saltar giù dalla carrozza ma lui mi prese alla vita e mi trattenne e poi mi baciò allo stesso modo come prima io avevo fatto con lui e poi e poi cenammo ha capito no e lui mi ha dato indovina coraggio indovina 500 franchi credi ce ne sono di uomini generosi per tutte l'intrigo è riuscito benissimo la luis ha avuto un po di meno solo 200 franchi ma sai la luis a dir la verità era troppo magra la tabaccaia continuava a parlare vuotando in una sola volta tutti i ricordi raccolti da tanto tempo nel suo cuore chiuso di bottegaia tutto il passato povero e buffo la faceva commuovere rimpiangeva quella vita galante e disordinata del marciapiede di parigi anche se era fatta di privazioni e di carezze a pagamento di risate e di miseria di astuzie e qualche volta di amore sincero le domandai ma come hai fatto a ottenere questa rivendita di tabacchi sorrise è tutta una storia figurati che nel mio alberghetto proprio nella stanza accanto alla mia abitava uno studente in legge ma sai uno di quelli che non hanno voglia di far niente dalla mattina alla sera lui viveva al caffè aveva una passione per il biliardo come non ne ho mai viste e così quando ero sola certe volte passavamo insieme la serata è da lui che ho avuto rogé rogé chi mio figlio mi dava un piccolo contributo per allevare il figlio ma io ero convinta che da lui non c'era proprio niente da sperare non avevo mai veduto un giovanotto così fannullone proprio mai visto dopo dieci anni di università era ancora il primo esame quando la sua famiglia si rese conto che da lui non si poteva cavare niente lo richiamò a casa in provincia però a causa del piccolo rimanemmo in corrispondenza beh figurati che alle ultime elezioni quelle di due anni fa vengo a sapere che è stato eletto deputato del suo paese e ha fatto anche dei discorsi alla camera davvero che nel regno dei ciechi con quel che segue insomma per concludere sono andata a trovarlo e lui mi ha subito fatto ottenere uno spaccio di tabacchi e sale come figlia di ex prigioniero sì è vero che mio padre era stato prigioniero di guerra ma non avevo mai pensato che questo fatto mi sarebbe stato utile e allora guarda ecco roger era entrato in un giovanotto alto dall'aria seria per bene persino troppo baciò sulla fronte la madre che mi disse ecco signore questo è mio figlio è già caposezione al municipio sapete è un futuro vice prefetto salutai quel funzionario come meritava e uscii per far ritorno in albergo dopo aver stretto solennemente la mano tesa di saira grazie a tutti